Discriminazione razziale. Con questa accusa PDL e Lega Nord sono stati citati in giudizio dal presidente della Fondazione Romani e da due associazioni che hanno chiesto 25.000 euro di risarcimento danni da ciascun partito. I fatti risalgono a fine maggio. Sotto accusa manifesti 6x3 affissi in città a Pescara che recavano la scritta il PDL mantiene gli impegni fuori dalle case popolari Rom e delinquenti. Il manifesto sollevò molte polemiche anche di natura politica. La Lega Nord invece diramo un comunicato stampa nei giorni successivi all'omicidio di Domenico Rigante, l'ultrabianco azzurro ucciso da un Rom il primo maggio scorso nel quale si chiedeva l'allontanamento degli zingari dalla città. Il commissario del partito di Bossi Marco Rondini si difende così. Allora a seguito dell'omicidio Rigante noi chiedemmo con un comunicato stampa che le autorità competenti intervenissero rapidamente per sanare questa situazione. Non si tratta torno a dire di persone che possono sentirsi in qualche modo offese dal nostro comunicato stampa né tanto meno la volontà del nostro comunicato stampa era quella di creare un clima di odio nei confronti dei nomadi in generale. Noi chiedevamo che le autorità intervenissero sul caso particolare e cioè che si assicurassero che queste persone non potessero più permanere liberamente, circolare liberamente per il territorio di Pescara. I magistrati abbiano preso questa cosa come probabilmente una perdita di tempo.